Con Muller Mix mi succede così. Sono sola, in uno spazio grande. Metto le fragole nel bianco, ma poco. E poi li separo, ognuno per sé. E quando meno se l'aspettano... Fluff! Mischio tutto e giro. E mi godo il panorama. E a te? Che succede? Muller Mix yogurt bianco e fragole. Racconta il tuo viaggio su Muller.it. Fate l'amore con il sapore.